Guarda, voglio veramente qualcosa di piacere, può qualcuno darmi qualcosa di piacere qui? Ho veramente bisogno qualcosa di piacere Anche per te, questa sera a Movida, ma che cosa ti piace di questo locale? La musica, la gente Allora invitami tutti coloro che ancora purtroppo non conoscono il Movida Venite, sicuramente passerete una serata piacevole Salutiamoli Ciao Ragazzi, buonasera, il tuo nome? Alessandro Alessandro e? Clara Fidanzato, immagino Da quanto tempo? Quattro anni Quattro anni, ma il sabato sera la porti sempre qui a Movida, immagino? No, perché non so qua Perché non? Lavoro fuori Ah, dove lavori? In Sardegna Bene, allora, ragazzi, lui lavora in Sardegna e la ragazza tutti i sabato sera viene a Movida Ok? No, no, la ragazza sta a casa La ragazza sta a casa il sabato sera Cosa? Resti a casa il sabato sera perché lui non c'è E ogni tanto sì? Ogni tanto ha detto A volte va a casa di mia mamma Ok, allora facciamo una cosa Il sabato sera lei può uscire con me e la porto qui a Movida Devo pensarci un po' Ma dai, scendiamo compromesso Vediamo, dai Dopo Appena è verata Un'ultima domanda Per te qual è il senso della vita? Senso della vita Il senso della vita Realizzarci Per te qual è il senso della vita? Lui Ma quanto è dolce Ragazzi, un bacio Quanto ci si diverte a Movida? Abbastanza Sì, ma abbastanza quanto? Diamo un voto a questo abbastanza Ma direi nove e mezzo Un saluto agli amici di Night and Day Un bacio a tutti Amici di Night and Day Qui a Movida Non ci si diverte soltanto Ma potete festeggiare Qualsiasi tipo di evento E questa sera sono in compagnia di Maria Antonietta Buonasera Buonasera Che è diventata Dottoressa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Possiamo dire anche il voto? 107 Perfetto Tanti auguri anche dallo staff di Night and Day Grazie Allora vogliamo salutare gli amici di Night and Day Vogliamo invitare tutti quelli che non conoscono il Movida? Sì, venite Perché se non venite non potete conoscere questo splendido locale Grazie Ciao E adesso sono in console con il nostro DJ Danny Danny, buonasera Buonasera, ciao a tutti ragazzi Anche perché chi sceglie il Movida Sa innanzitutto di potersi divertire al 100% Di potersi scatenare Di potersi anche esibire Certamente Ok Danny, naturalmente non ci resta che salutarli Ciao ragazzi Amici di Night and Day Qui al Movida si fanno incontri davvero molto molto particolari Amici VIP E adesso sono in compagnia del signor Qual è un po' tanto, ho detto Pidullo Melli Ok, lui sarà il finalista della corrida Lo vedremo esibirsi sabato prossimo Giorno 9 Direi La finale Ma in che cosa ti esibirai? Eh, kiss kiss dance Come mai questa scelta? Eh, è stata da poco tempo, diciamo, con gli amici e tutto Un saluto agli amici di Night and Day Ragazzi un saluto agli amici di Night and Day Un saluto a tutti gli amici di Night and Day Un saluto a Roberto, Renato e a tutti i miei amici Ciao mamma, ciao mamma Ciao Cosa trasmetti al pubblico che ti segue la notte? Allora, il messaggio è questo Amare è bello, non essere amati Amare L'amore salva il mondo Allora, fammi un saluto agli amici di Night and Day Amici di Night and Day dopo diverso tempo Il numero 69 è ritornato al Movida Ed è ritornato per intervistare il caro Antonio Antonio, buonasera Se era pure a te, tutto a posto? Sono ritornati esclusivamente per te Madonna, che piacere immenso Hai sentito la mia mancanza, con stillo Sì Ha detto lui, il cuore Ah ecco, ha detto No, no Se stavo pensando a qualche altra Ha detto, ora ne dirà un'altra No, no, no Sono stato soft È abbastanza carino questa sera Dai, non mi ha torturata ancora Siamo appena all'inizio Allora Antonio Ancora un altro sabato sera Un altro sabato sera straordinario Esplosivo Perché il Movida ama la musica Ama la notte Ama il divertimento Ma soprattutto ama far divertire E d'altronde ha le carte e regola per farlo Sicuramente È la base proprio del concept aziendale Che è questo qua Far divertire la gente Perché noi purtroppo offriamo divertimento Se lo sai offrire Viene ricambiato con il divertimento Se lo sai offrire se ne vanno a casa E visto che il Movida è sempre pieno Vuol dire che siamo bravi Nell'offrire il divertimento Naturalmente A parte che siamo bravi per questo Ricordiamo che questo sabato sera È iniziato proprio con il live dei Rebus E adesso sta continuando con la dance music Di DJ Danny Russo Ma sei preparata? Ti vedi proprio tutta la programmazione del Movida? Tutta? Tutta? No a parte Diciamo che abbiamo iniziato il sabato Come i primi sabato di ogni mese Con i Rebus Ma sabato prossimo finalmente Ci sarà la mia ciaccarella A meno che non mi farà Qualc'altra si telefonata E dirà Sono ammalata No come devo fare L'ammazzo Perché mi deve cantare la mia canzone E quindi sicuramente verrà Quindi sabato prossimo A tutti voi che state a casa Ci sarà la ciaccarella La ciaccarella vuol dire Vanessa Live piano show Qui al Movida Ecco abbiamo parlato del sabato Ma so che durante la settimana Al Movida ci sono tre serate importanti E iniziano dal venerdì Sì il venerdì ci sarà la serata Caraibica A tema E la domenica E la domenica latinoamericano Karaoke Animazione Disco Ed è free Libera Ingresso libero E tutto Però è importante dire Che oltre a questi tre giorni Nel quale noi comunque possiamo festeggiare Il vostro evento Dal lunedì alla domenica Siamo sempre pieni Perché festeggiamo l'evento Qualsiasi gesto che sia Come dico sempre io A soli dieci euro Vi diamo anche bigliettini Voi dovete portare solo la torta Questo fatto che io lo dico sempre Continuamente Fa sì che il Movida Faccia dieci Quindici Dodici Venti Eventi Al mese Quindi vi ringrazio immensamente Perché veramente Preferite il Movida Per festeggiare il vostro evento E quindi noi siamo fieri di poterlo fare E lo facciamo con tutta l'anima E la passimonia che ci possa essere Nell'organizzare un evento Perché voi restate contenti Noi siamo contenti E la gente sicuramente ci premerà Perché ritornerà a festeggiare un evento Che possiamo dire Che noi ci troviamo a San Marzano Via Pendino Finalmente 69 e 99 Annabella Chi lo sa dove sta Comunque 0815187546 Vivi la Movida Punto it Facebook Movida Italian Disco Pub E qui è il regno del divertimento E dal regno del divertimento Non mi posso Farsi di Non salutare Quel dolcissimo mio amore Che sta a casa E che è la mia vita Non dimentica mai di salutare E sempre Sta qua E la mia vita Ha fatto sì che io cambiassi tutto Nella mia vita Se è la mia vita Dal Movida è veramente tutti Fedeli o non fedeli E noi ci aspettiamo Che è il senso del Movida Ciao